Buongiorno a tutti, siamo qui con Mr. Merlo, fresco di conferma con il Fossano Calcio. Mr. Sensazioni a caldo su questo rinnovo con i Blues? E' una grandissima soddisfazione, perché sono arrivato a gennaio, arrivavo da un'annata non bellissima, ma non tanto sul piano del risultato, quanto sul piano morale per ciò che era successo. Adesso qui ho trovato casa, perché ho sentito proprio calore della famiglia, c'è stato un bel connubio, abbiamo fatto un bel percorso che speriamo di completare, però quando lunedì il Presidente mi ha chiamato per dirmi la conferma, qualunque fosse la categoria, è chiaro che mi ha fatto veramente tanto tanto felice. Esatto, adesso siete ancora in corso nei play-off nazionali, l'obiettivo è sicuramente quello di salire in Serie D, ti chiedo, adesso poi al di là della conferma, questo comunque conferma in se è l'ottimo lavoro fatto? Sì, abbiamo fatto un gran lavoro, io devo ringraziare, ripeto, sia la Sostacchi, i giocatori che ci sono messi a disposizione, la squadra è buona, il gruppo è ottimo, e sì, proviamo, ci stiamo lavorando per quello, sappiamo che adesso abbiamo questo ostacolo durissimo che è il San Donato, però ci siamo allenati bene, ci alleneremo ancora oggi, domani, domenica avremo il primo round, sappiamo che le partite su 180 minuti bisogna essere bravi a gestirle e a farle, sappiamo che incontreremo un'ottima squadra, ma sappiamo anche che siamo pronti, quindi ci proveremo con tutte le nostre forze. Mister, cosa vuol dire essere allenatore del Fossano e di questo gruppo qui che hai adesso? Ebbè, ma si vede da, io sono in questo ufficio, vedo delle magliette, vedo delle foto, si respira aria di calcio vero, questa è una società che è stata tanti anni anche in Serie D, speriamo un giorno di tornarci presto, e far calcio al Fossano è bello, perché c'è una grande organizzazione, dico quasi professionistica, e quindi per me è facile sotto certi aspetti fare l'allenatore, visto che l'allenatore è un mestiere, io dico sempre che dopo l'arbitro è un mestiere più difficile, però farlo qui a Fossano è veramente bello e gratificante. Mister, l'ultima cosa, due parole per descrivere questo tuo rinnovo a Fossano. Ebbè, è una soddisfazione, è una soddisfazione perché so quanti allenatori ci sono in giro bravi, so quanto certe piazze fanno gola, e sapere di essere ritenuto all'altezza della società ti fa sentire importante, e di questo ringrazio sicuramente tutti, del Presidente Bessone, del Vice Calamare, tutti quanti, perché non voglio dimenticare nessuno, però questa è un'ulteriore spinta, io non ne ho bisogno, però sicuramente è un'ulteriore spinta a cercare di fare il massimo dei massimi. Grazie mille, Mister. Grazie a voi.